My Face My Work è un racconto fatto di racconti, una storia nata qualche anno fa. Io sono un sognatore, uso gli strumenti che sento miei per creare progetti che ritengo abbiano un concetto profondo e umano. Se volete saperne di più, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i nuovi episodi. Io sono Fabio Massimo e questo è... My Face My Work Secondo me il mio più grande punto di forza è la mia forza di volontà. Cioè io ho una forza di volontà talmente forte che io tre anni fa non ragionavo neanche, non prendevo neanche in considerazione l'idea che per caso potesse fallire il mio progetto. Non esisteva questa ipotesi, cioè io ero sicura. Ciao Martina, come stai? Tutto bene, grazie. Con quale nome sei conosciuta? Martina Stratzer, quindi il mio nome e cognome, oppure la proprietaria di Amabile, quindi quella di Amabile. Entrambi non mi vanno molto bene perché quello che voglio, ciò che voglio apparire sui social è proprio un'imprenditrice proprietaria di Amabile o Martina Stratzer, quindi... Che lavoro fai? Io sono un'imprenditrice, mi piace definirmi tale, non mi piace definirmi una content creator soltanto, una tiktoker, un influencer, perché in realtà io quello che porto sui social è imprenditoria. Io utilizzo i social per parlare della mia azienda, quindi faccio l'imprenditrice. E' ciò che sognavi da bambina? E' sempre stato un sogno nascosto, molto soffocato, che non aveva molto modo di uscire perché la mia famiglia, in generale io come persona, sono sempre stata molto orientata verso l'istruzione, l'università, la scuola. Quindi a quando ho finito le superiori non mi è stata neanche proposta l'opzione di non fare l'università e quindi di intraprendere una strada che non fosse quella comunque di studiare. Quindi subito mi ero approcciata comunque anch'io al mondo dell'università, dopodiché ho capito che fin da subito io avrei soltanto voluto avere qualcosa di mio e in tantissimi ambiti della mia vita si è sempre manifestata questa cosa. Quindi in realtà sì, era il sogno che avevo fin da piccola ma l'ho capito molto tardi. Cosa ti piace fare nel tempo libero quando non sei sui social? Quando non sono sui social e quando non lavoro, perché in realtà io lavoro tutto il giorno in ufficio e non sempre riprendo quello che sto facendo. Faccio un sacco di passeggiate, mi piace tantissimo la natura, mi sento molto riconnessa con il mio pianeta e il mio habitat naturale, quindi porto a spasso la mia cagnolina. Oppure tendo a fare sempre attività molto calme, tranquille, poco frenetiche, faccio un puzzle da duemila pezzi, ci metto ore, ore, ore. Tendo un po' a decompressare, a fare tutte cose che mi mettono molta tranquillità perché vivo una vita molto frenetica. Quando hai iniziato sui social e perché? Allora ho iniziato a maggio del 2020, in realtà subito era un po' un gioco, cioè l'azienda avevo già buttata giù, era già un progetto comunque partito. Io cercavo di farlo funzionare, i social ancora proprio non facevano parte della mia persona. Mi sono iscritta su TikTok perché mi stavo annoiando tantissimo, maggio 2020 piena quarantena, ho cominciato a fare video comici, quindi che non centravano neanche direttamente con il mondo dei gioielli, quindi con il far conoscere l'azienda. Dopodiché quando è cominciato a funzionare ho capito che potevo sfruttare quel mezzo di comunicazione per raccontare quello che volevo fare nella vita e quindi proprio la mia realtà a livello più lavorativo. E quindi poi ho traslato la comunicazione. Però sì, mi sono iscritta in realtà per noia, gioco. Quanto è importante oggi giorno stare sui social? Importantissimo. Penso sia noi il mass media più potente che abbiamo, quello anche più pericoloso purtroppo e quindi quello che va utilizzato con più cura sia da utente che crea contenuti, sia da utente che fruisce dei contenuti. Vanno scelte con cura le persone da seguire, gli esempi che vogliamo vedere tutti i giorni perché alla fine il social ti rende veramente partecipe della quotidianità delle persone che segui. Da utente bisogna stare attenti, lanciare messaggi che siano corretti, positivi e cercare sempre di ragionare su che apporto il nostro contenuto possa dare alla società. E se questo è positivo, farlo. Se è negativo, non farlo. Anche se magari vorremmo mostrare qualcosa in particolare. Però è importantissimo, è proprio importante. Quanto è difficile stare sui social? Da persona che crea contenuti è facile come lavoro in sé, nel senso che poi la creazione del contenuto, una volta che c'è l'idea, una volta che c'è un po' tutto, è facile. Si porta dietro però tante difficoltà, soprattutto quando arrivano grossi numeri, quindi quando si ha sempre, comunque ogni parola che si dice, si ha sempre un pubblico davanti molto ampio che la sta per ascoltare. Bisogna essere sempre attenti, bisogna essere sempre pronti anche a accogliere nel modo corretto le critiche e le polemiche che possono nascere. E bisogna soprattutto essere sempre continuamente attivi, soprattutto a livello creativo, proprio nel cervello. Perché se a un certo punto si ha un blocco creativo, è un dramma per noi che siamo sui social, è veramente un dramma. Quindi in realtà è facile come lavoro in sé, a livello proprio operativo, pratico, emotivamente si porta dietro delle difficoltà, diciamo così. I social ti generano paure? Sì, un sacco di paure. Penso che tutti noi abbiamo tante paure, abbiamo paura di scomparire, abbiamo questa paura di aver creato qualcosa, dato che comunque ci sentiamo anche continuamente, anche dagli adulti, dai genitori, continuamente dire ma e se per caso a un certo punto spariscono i social che cosa fai? Ma se a un certo punto sparisce quell'applicazione cosa fai? Ci sentiamo perennemente dire quanto sia in realtà volatile il nostro lavoro, alla fine il lavoro che ci siamo creati o comunque il nostro personaggio. E quindi a forza di sentircelo dire è effettivamente una paura che in noi diventa molto molto presente quella di scomparire, quella che la gente non sia più interessata magicamente ai contenuti che si portano. E poi c'è la paura costante di essere fraintesi, ogni parola che esce dalla nostra bocca può essere interpretata da centinaia di migliaia di persone in un modo diverso. Quindi ci può essere quella persona che la interpreta nel modo sbagliato e convince tutti gli altri che quella sia la versione che noi volevamo portare. Quindi c'è sempre questa paura di dire la cosa sbagliata, ripetiamo le scene mille volte perché magari abbiamo detto quella parola che... No, meglio non dirla. Perciò sì, ci sono delle paure comunque. Quanto contano i numeri? I numeri contano... Neanche tantissimo. Dipende un po' da quello che si vuole fare e dipende dal messaggio che si vuole portare, dipende da quanto si è sicuri di quello che si vuole mostrare. Nel mio caso io mi rendo conto che il mio personaggio non è un personaggio facile da seguire, perché io comunque porto discorsi che sono anche a volte pesanti, porto imprenditoria, porto la quotidianità dietro le quinte di un'azienda. Non tutti sono interessati a vedersi tutti i giorni un contenuto che parla di lavoro, del mondo del lavoro e non tutti si possono anche rivedere nel mio personaggio. Quindi mi rendo conto che sia un personaggio difficile da seguire e per questo i numeri hanno una importanza relativa per me. Nel senso che so che quelli che ci sono, proprio per il fatto che il mio personaggio non è semplicissimo da seguire, sono molto affezionati e molto affiatati. E di conseguenza do più peso al valore, alla qualità che ha quel numero piuttosto che alla quantità. E poi comunque i numeri non sono un indice né del posizionamento del personaggio, né del contenuto, né dell'importanza nemmeno del personaggio. Alla fine la cosa importante è che si passi un messaggio, che i messaggi importanti vengano visti da più persone. Ho tenuto poi su TikTok il numero di follower non è nemmeno indice di quanto una persona sia seguita o meno, perché su TikTok noi tutti vediamo video anche di persone che non seguiamo. Magari vediamo tutti i video di una persona e dopo mesi ci rendiamo conto che quella persona non la seguivamo nemmeno. Questo perché siamo talmente abituati a vedere video che sono perfetti per noi, che non ci interessiamo nemmeno al seguire gli utenti. Quindi i numeri contano, ma alla fine neanche troppo. Cosa cambieresti dei social? Questa è una domanda molto difficile. Cambierei forse la facilità con la quale si emerge anche quando non si porta nessun tipo di valore. Nel senso che alla fine tutto ciò che c'è sui social viene visto da un bacino di utenti che è praticamente incontrollabile. Viene visto dai bambini, viene visto dagli adolescenti, dai bambini anche proprio più piccoli perché magari hanno il telefono in mano e i genitori non stanno controllando in quel momento che cosa stanno guardando. Viene visto dagli adulti, viene visto veramente da un bacino di persone che non è targetizzato, sì, ma non in maniera volontaria. E purtroppo è molto spesso, molto facile emergere soprattutto se si portano contenuti che non hanno nessun tipo di valore e che per questo sono estremamente leggeri. Perché alla fine tutti noi cerchiamo della leggerezza. Andiamo sui social perché abbiamo voglia di un momento di distrazione e quindi siamo più propensi ad apprezzare i contenuti frivoli e leggeri. Il problema però è che appunto chi porta un contenuto frivolo e leggero spesso rischia di portare messaggi sbagliati che se arrivano alla magari la ragazza che ha un determinato complesso che sta attraversando un periodo della sua adolescenza particolare, delicato, possono essere veramente deleteri. E in più una cosa effettivamente che manca molto sui social è una qualche forma di protezione barra assistenza nei confronti di chi sui social ci lavora. Io mi rendo conto che noi siamo veramente un po' abbandonati a noi stessi. Se abbiamo bisogno di qualcosa, se succede qualcosa, abbiamo bisogno di assistenza, non ci sono proprio dei canali che ci aiutino. E quindi siamo proprio in balia dell'algoritmo, dei bug, possono sparire i profili da un momento all'altro quando una persona ci costruisce comunque veramente una vita intera su quel lavoro lì. E quindi queste sono le cose che cambierei prevalentemente. Da quando hai iniziato i social ti hanno cambiato? Tantissimo, tantissimo. Innanzitutto mi hanno fortificata in un modo però che purtroppo non apprezzo, nel senso che ho dovuto fare un lavoro talmente profondo sul come reagivo e reagire alle critiche, alle polemiche, alle offese, che alla fine è un po' come se mi fossi desensibilizzata a riguardo, diciamo così. E questo mi dispiace perché comunque mi ha tolto un piccolo pezzo di sensibilità che invece apparteneva alla mia persona e mi piaceva anche che mi appartenesse. Adesso è un po' come se avessi creato veramente uno scudo, un muro che mi permette di non essere toccata e quindi di non essere ferita dalle cose, ma allo stesso tempo si ripercuote poi su tutto il resto della mia vita. E poi in generale sempre un po' questo concetto qui del avere un po' sempre tutto nelle mani di tutti potenzialmente, sulla bocca di tutti. Mi ha reso una persona estremamente riservata, tendo in generale a non aprirmi mai, a non fidarmi, mi ha veramente tolto tantissima fiducia nei confronti delle persone e anche un po' di sicurezza perché appunto non so mai, il concetto del video non so se dire questa parola perché magari è sbagliato o no, poi veramente si vari percuotere su tutta la vita e su tutte le relazioni sociali che ho. E in queste cose mi dispiace che mi abbia cambiato, però comunque mi rendo conto che fa parte del pacchetto, quindi lo accetto e ci lavoro comunque per cercare di scindere le due cose e recuperare quello che è recuperabile nella mia sfera privata e lasciare invece il mio rapporto con i social così com'è. Sei consapevole di quanto la tua persona sia influente? No, mi rendo conto che io non vivo a Milano, non vivo in mezzo agli eventi, non vivo in mezzo alle persone che mi fermano. Io vivo nella mia bolla, vivo a Modena che è una città piccola, la mia giornata, la mia quotidianità è composta da casa, ufficio, ufficio, casa, casa, ufficio, ufficio, casa. Raramente vado in giro, vado a farmi una passeggiata in centro, comunque in luoghi affollati, non frequento in generale locali, discoteche. Quindi io veramente all'inizio non mi ero davvero resa conto, neanche solo di che cosa volesse dire avere quel numerone così grosso. Perché appunto vivevo proprio nella mia intimità, cioè io vado a cena dalla mia famiglia, lì in pigiama, ci guardiamo i video di quando ero piccola, io vivo proprio serena. E poi alcune volte invece magari capita che mi ritrovo ad un evento, mi ritrovo in una circostanza dove c'è molta gente e mi rendo conto effettivamente che appunto non riesco ad avanzare perché vengo magari fermata. È una cosa che nella mia quotidianità io non vivo, quindi non me ne rendo conto veramente. No. Quanto conto essere originali? Tantissimo. Penso che sia una delle chiavi per emergere ma avere un personaggio che comunque abbia un valore. È un po' quello che dicevamo prima, molti emergono con tantissima leggerezza portando il nulla. Ma in quel caso l'originalità non serve a niente perché in realtà se ci riguardiamo sono tutti uguali, identici. Però appunto in realtà il valore comunque di quel personaggio lì è un po' fine al video, al personaggio stesso. Quando invece si vuole emergere per qualcosa di più, per esempio nel mio caso, io non volevo emergere come Martina Stratzer che cosa fa? Non si sa, fa i TikTok. Io volevo emergere per qualcosa perché proprio volevo che la gente sapesse che io ho fatto qualcosa, che ho avuto un sogno, ce l'ho tuttora, che ci ho creduto talmente tanto da riuscire a realizzarlo. Nel senso, proprio riuscire a realizzare quello che io tre anni fa sognavo. E di conseguenza per emergere in questo modo l'originalità è fondamentale perché se non avessi nulla di diverso dagli altri, mi rendo conto che per gli utenti non avrebbe nessun senso seguirmi. Non avrebbe nessun senso guardare i miei contenuti, anche solo appassionarsi ad una storia, appunto all'inseguimento del sogno stesso. Io mi rendo molto conto che i miei utenti lo sognano con me, questo sogno, e questo è importante, va tutto comunque veicolato con originalità. Ogni scelta che faccio cerco in qualche modo di farla, in modo che porti qualcosa di nuovo, che porti qualcosa di diverso, che sia di ispirazione e che quindi sia diversa da qualcosa che già c'è e che magari non va bene. Anche solo nel modo in cui gestisco il personale, un po' in tutto, cerco di essere originale, coerente con i miei valori ovviamente. Cosa intrattiene uno spettatore davanti a un format che si ripete? Diciamo che in realtà un format che si ripete a un certo punto arriva comunque al capolinea. Me ne sono proprio resa conto, penso che ce ne siamo resi conto tutti, anche una cosa che funziona benissimo, a un certo punto arriva proprio, cioè non va più, non va più avanti. E quindi bisogna comunque reinventarsi, bisogna riuscire a essere bravi a rendersi conto di quando quel format li sta piano piano tramontando per non rischiare di bloccarsi lì, continuare in perterriti a fare quello e a chiedersi ma perché non funziona più? Perché è normale, l'utente dopo un po' si annoia o comunque a un certo punto veramente le idee finiscono. Il modo per rendere sempre originale un format, un video che è sempre uguale in realtà a un certo punto non c'è più. Di conseguenza è più importante riuscire a evolversi e riuscire a evolversi insieme agli utenti, riuscire a capire che cosa gli utenti hanno voglia di vedere, che cosa li può interessare di questa nuova versione di te perché poi il personaggio cresce insieme alla community, questo anche è importante. Bisogna riuscire a capire che una cosa che facevo tre anni fa non può appiacere quanto tre anni fa agli utenti che mi guardano adesso perché gli utenti sono cresciuti di tre anni, non gli interessa più e ce ne sono sempre di nuovi sì ma comunque sono sempre loro alla fine che portano avanti il personaggio e quindi è più importante riuscire a evolversi piuttosto che cercare di impazzire dietro a un far funzionare il format all'infinito anche quando non ha più carburante e comunque per farlo funzionare per quel lasso di tempo definito invece il modo è aggiungere sempre qualcosa di nuovo, sempre, sempre qualcosa di nuovo. La cosa che mi spinge in assoluto di più è quando mi dicono che sono una fonte di ispirazione, quando io racconto la storia di come ho aperto Amabile e qualcuno mi scrive un messaggio anche solo sei mesi dopo, un messaggio magari che mi arriva dal profilo di un piccolo brand, di uno small business appena nato e mi dice questo profilo l'ho aperto grazie a te, io adesso sto facendo questo e ho mollato quello che facevo che non mi piaceva e sto cercando di fare questo perché ho visto i tuoi video quindi indirettamente mi ha ispirato e mi hai dato una mano, quella è la cosa che mi rende in assoluto più felice è la cosa che mi spinge a rendermi conto che effettivamente quello che faccio ha un senso e quindi mi spinge a volerlo fare ancora e poi in generale ogni volta che riesco ad avere la prova di un cambiamento che ho generato, anche minuscolo, anche solo banalmente una persona che mi scrive un commento con scritto che da quando ha fatto vedere il mio video il suo datore di lavoro, il suo datore di lavoro ha messo la scatolina con degli assorbenti in bagno basta ok, io ne parlerò altre mille volte, non finirò mai di parlarne se potrà anche solo generare un piccolo cambiamento in qualcuno che fa qualcosa perché ha visto un mio video quando genero un cambiamento in positivo mi rendo conto che voglio continuare a condividere Cos'è per te la creatività? La creatività per me è due cose, innanzitutto la propensione in generale, la tendenza a mettersi in gioco anche quando c'è qualcosa che non si conosce quindi banalmente vedo un video in cui qualcuno sta ricamando, dico ma provo, mi metto lì e provo a farlo per me questo comunque è una manifestazione della creatività, nel senso che io ho creatività nel momento in cui ho voglia di provare a fare qualcosa che esce anche potenzialmente dalle mie corde ma che appunto mi ispira e mi metto lì e provo e mi invento, mi invento modi perché non lo so fare e non ho fatto un corso ma mi invento un modo per riuscire a farlo e la seconda cosa è riuscire a trovare dei modi per fare le cose che non si sanno fare o degli strumenti quando non si hanno gli strumenti quindi se io ho un obiettivo e per fare quell'obiettivo mi serve una determinata cosa io quella determinata cosa non ce l'ho e la dovrei ordinare su Amazon mi arriverebbe la settimana prossima e io ho fretta di fare quella cosa la creatività è mi metto lì, mi guardo intorno, mi costruisco quello che mi serve quindi cerco dappertutto un modo per raggiungere il mio obiettivo anche se mi mancano gli strumenti e poi in generale avere una mente che viaggia molto, alla quale vengono tante idee che ogni cosa che vede è una fonte di ispirazione in qualche modo queste sono un po' le tre manifestazioni per me della creatività quanto contano le collaborazioni con le aziende? come è il rapporto con loro? ti lasciano libera o ti danno vincoli che limitano la tua creatività e modo di essere? allora partendo dal presupposto che io faccio davvero poche collaborazioni perché appunto non è il mio core business è proprio una cosa a parte il mio rapporto con le collaborazioni è un rapporto a mio parere molto molto sano e molto anche particolare e unico rispetto magari alle altre persone che stanno sui social perché appunto non essendo il mio, la mia fonte anche solo di guadagno io scelgo di fare una collaborazione solo ed esclusivamente se è un brand che io ammiro da sempre un prodotto che ammiro da sempre, una cosa che mi piace tantissimo una cosa che ho sempre sognato, un brand con il quale ho sempre sognato di avere un qualche tipo di rapporto altrimenti non ho quel secondo fine del vabbè lo faccio perché comunque porta un guadagno perché appunto non è un lato che mi interessa in realtà io ho un rapporto anche bello con i brand con i quali collaboro a livello proprio di creatività nel senso che tendenzialmente quando viene scelto il mio personaggio come appunto volto tramite il quale veicolare la pubblicità di un prodotto viene scelto perché comunque lo si apprezza da parte del brand dell'azienda e quindi mi viene lasciato molto spazio anche a livello di creatività mi viene detto assolutamente di utilizzare il mio modo di parlare, il mio modo di esprimermi, il mio modo di fare i video raramente mi vengono imposte cose che proprio non condivido anche perché innanzitutto farei veramente fatica ad accettarle e seconda cosa non ha nemmeno senso, non ha nemmeno senso proprio per l'azienda distrugge chiaramente la riuscita della campagna pubblicitaria perché il mio pubblico non è interessato a vedere un video nel quale io non sono io quindi in realtà è un rapporto molto sano Per te stare sui social è un lavoro? Sì, sì sì assolutamente Lo fai più per lavoro o per spirito di condivisione barra voglia di creare? Io stare sui social lo faccio per voglia di condividere quello che è il mio lavoro e il mio lavoro nasce, cresce e si evolve grazie ai social quindi è un po' un serpente che si morde la coda il mio lavoro non è quello ma utilizzo il social per condividere e per far conoscere il mio lavoro Lo faresti ugualmente se non ci fassi un guadagno? Sì sì assolutamente io ho sempre comunque avuto la tendenza a voler condividere quello che facevo quindi l'avrei fatto lo stesso anzi io l'ho fatto senza la previsione di un guadagno alla fine quando ci si iscrive, quando si apre un profilo non è che lo si fa pensando poi di guadagnarci lo si fa perché semplicemente si è persone che tendono a voler condividere io lo facevo anche prima quando avevo 800 follower della mia città io facevo le storie, raccontavo tutto quello che facevo la mia giornata aiutatemi a cercare le lacce delle scarpe facevo di tutto e di più quindi l'avrei fatto comunque Ricordi quando hai cominciato a funzionare? In realtà dopo veramente poco poco dopo pochissimo tempo che mi sono iscritta ha subito cominciato a funzionare perché non lo so mi veniva abbastanza automatico scegliere i trend giusti i video giusti e soprattutto poi ha cominciato a funzionare il circolo faccio il video per raccontare l'azienda l'azienda vive e cresce grazie al video quando hanno cominciato a notare tutti i gioielli che avevo addosso e io ho 12 buchi alle orecchie adesso sono molto pulita non ho neanche l'orecchino il primo orecchino non ho collane, non ho bracciali, non ho niente ma tendenzialmente sono un albero di natale e quindi era veramente impossibile non notare tutti i gioielli che avevo addosso perciò anche quel è partito abbastanza subito perché mi chiedevano dove hai preso le cose che indossi e io rispondevo sono del mio brand quindi è stato molto veloce Cosa ti gratifica di più di quello che fai? Allora a livello di amabile mi gratifica da morire quando sono da qualche parte e vedo qualcuno che ha addosso i miei gioielli e proprio raggiungo un picco di felicità, di allegria pazzesco perché dico cioè mamma mia io alla fine da dietro le quinte non mi rendo effettivamente conto io vedo sì gli ordini che arrivano, gli ordini che partono, i pacchi che partono, le persone che lavorano ok vedo tutto il marketing che facciamo ma quando mi vedo le persone che hanno addosso i miei gioielli che sono partiti dal mio ufficio e sono usciti da lì fatti con le mani delle ragazze che lavorano da me è proprio mi rende felice tantissimo e un'altra cosa che mi gratifica è appunto come dicevo prima quando sono una fonte di ispirazione quello l'ho già spiegato Cosa faresti oggi se non avessi intrapreso questa strada? Allora penso che gira e rigira a un certo punto della mia vita mi sarei comunque rispondendo non mi sarei trovata a nutrire lo spirito imprenditoriale che ho sempre avuto in qualche modo quindi probabilmente starei facendo quello che faccio ma molto più lentamente e con molta più difficoltà ad emergere perché mi rendo conto che i social sono stati veramente un trampolino di lancio cioè sono proprio stati un trampolino vero e proprio e se non li avessi avuti io adesso non avrei quello che ho quindi probabilmente starei facendo comunque questo con molta più fatica se invece per qualche motivo io non avessi ascoltato il mio cuore la mia indole e tutto starei facendo la ginecologa Dove ti vedi in futuro? In ufficio? Mi vedo assolutamente attiva e presente in azienda io voglio essere presente, penso che il momento in cui avrò un amministratore delegato sarà molto triste per me perché mi rendo conto che magari un giorno ne avrò bisogno ma io comunque vorrei essere presente e io voglio fare l'imprenditrice e mi vedo comunque in una vita molto tranquilla in realtà molto tranquilla e serena con una famiglia molto numerosa, molto felice e la mia vita che ruota intorno a la mia famiglia, la mia casa, l'orto con le carote che crescono, le gallinelle e l'ufficio dove sono comunque l'imprenditrice e dirigo l'azienda e poi chiaramente ci saranno i social che saranno un po' una rete diciamo che è presente un po' in tutta questa cosa qui perché ovviamente essendoci presente soprattutto utilizzandoli per far crescere la mia azienda li utilizzerò però comunque la mia vita non la vedo come a Milano, in mezzo agli eventi in tutta quella frenesia in realtà io mi vedo in una vita molto tranquilla in cui faccio questo lavoro, azienda e casa, famiglia Rifaresti tutto? Sì, 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 assolutamente rifare tutto da capo ogni cosa possibile, immaginabile che ho fatto anche tutte le cose brutte le farei Chi è Martina? Cosa non sappiamo di te? È una ragazza con tantissimi sogni e tantissima voglia di raggiungerli e soprattutto tantissima forza tantissima sicurezza anche nel fatto che li raggiungerà sono una persona molto 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 sicura di sé in questo e in generale una persona che vuole dimostrare tantissimo, questa cosa la sento molto mia vuole dimostrare a tutti che credendoci abbastanza si può fare qualsiasi cosa è ovvio che io sono nata in un posto privilegiato rispetto agli altri ed è ovvio che se anche solo ho la libertà di fare quello che faccio anche solo in quanto donna è perché vivo qua però comunque in generale se si ha un sogno, un obiettivo e si crede intensamente a quello che si vuole fare alla fine un modo lo si trova alla fine da qualche parte ti arriva l'universo lo sa che lo devi ricevere e quindi sono sicuramente una persona che vuole dimostrare tanto questo a tutti quanti per dare proprio una spinta a tutti coloro che sono bloccati sono dei pesci che girano intorno nella loro brocca rotonda e non sanno dove andare non sanno come uscire da quello che stanno facendo che non gli piace e non sanno che si può rischiare e se si rischia con davvero tanta passione il risultato poi arriva Che consiglio ti senti di dare a me che sto incominciando? Un consiglio che mi sento di dare a tutti coloro che stanno cominciando è quello di non aspettare di avere tutto perfettamente pronto perché se si aspetta il momento giusto, il momento perfetto quello proprio dove è tutto già pensato e pianificato uno non arriva mai e due, dopo due settimane che hai cominciato il tuo piano non va già più bene perché alla fine va bene anche nel momento in cui si sente che sta proprio salendo questa voglia di provare a fare qualcosa va bene anche buttarsi è chiaro che non si deve fare con troppa leggerezza perché qualcosa comunque di pensato ci deve essere ma va bene anche buttarsi e aspettare che le cose piano piano il puzzle si costruisca piano piano pezzo per pezzo proprio lentamente alla fine le necessità anche nascono mano a mano che il progetto si evolve di conseguenza è giusto affrontarle quando ci saranno quando nasceranno io all'inizio subito ho pensato no come faccio non ho il corriere fa lo stesso non ho il corriere vado in posta mando i pacchi in posta non succede niente quando avrò bisogno di un corriere perché non ce la farò più ad andare in posta mi informerò su come avere un corriere perché non avevo idea di come si facesse perché alla fine si aspetti di avere tutto pronto perfetto tutto ordinato non cominci mai quando arriva ti devi buttare e quindi questo è il consiglio che darei a tutti coloro che stanno cominciando qualcosa che le appassiona molto buttarsi farlo grazie mille l'intervista è finita grazie a te adesso che ti ho conosciuto un po' di più ti porto nel mio mondo vorrei ritrarti tramite ciò che amo fare la fotografia e condividerti attraverso ciò che tu ami fare e che io sto incominciando a fare i contenuti social va bene andiamo a me molte di queste domande non erano mai state fatte si tende soltanto a fermarsi e a chiedere un po' come hai fatto cosa hai fatto tutto ciò che è il pratico e non si va invece dietro dove c'è poi l'emotivo